Ciao a tutti, bentornati. Allora, un nuovo video di acquisti. Lo sto registrando subito dopo, al video che ho appena registrato su acquisti un po' di prodotti per la casa, profumerie, cose così. E questa volta però parliamo di abbigliamento. Scusate per questa fascia di sole, ma il sole sta entrando dalla finestra che ho detto. E quindi, ci tocca tenercelo. È solo che voglio registrare questo video perché così lavo questa roba. Posso iniziare ad usarla? Allora, in una giornata particolarmente nuova, sono andata a fare acquistini pensando che bello, tra un po' arriva l'autunno. E quindi inizierò a godermi un po' di più la casa, a stare in casa, in pigiama, le serate sul divano con la tisalina calda. Insomma, queste cose qui, molto da me. E sono andata in questo negozio che si chiama NKT. Che non so se c'è in tutta Italia o se ce l'abbiamo solo noi qua. E in Tantino ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tipo sei o sette. Ce ne è a Trento, a Trento città. Arriva del card, a Rovereto, a mezzo Lombardo, a mezzo Crono, ce ne è dappertutto, insomma. E però non so se fuori da Trentino ci sia. Comunque è un negozio che ha prodotti tedeschi. Infatti anche tutte le etichette sono scritte poi in tedesco. E secondo me, a parità del prezzo che hanno, che sono davvero tanto, tanto convenienti, hanno anche una buona qualità. A inizio autunno scorso, ormai è un annetto, ho comprato tutta una serie di magliette. A maniche in corde, in cotone, tinta unita, proprio semplicissimi. Le ho presa bianca, rosa, verde, nera, proprio magliette semplici semplici. Le ho lavate, rilavate, stralavate perché le usavo praticamente sempre per andare al lavoro. E sono ancora perfette, a parte quella verde che me l'ha rotta il gatto di mia mamma con le unghie. E la seconda volta che la indossavo, quella verde non ve lo dico nemmeno era la mia preferita e non l'ho più trovata. Non l'ho ucciso, eh. Ci ho pensato, ma non l'ho ucciso. Allora si spende davvero poco e comunque la qualità è anche abbastanza buona. Ho deciso di togliermi lo svizio e di comprarmi delle nuove ciabatte per l'inverno. Le ho scelte molto molto semplici in grigio. Con questa stellina in glitter, questo invece è beloso. Qui come vedete c'è il cartellino, c'è scritto schue, in tedesco per l'appunto significa scarpe. E avevo preso un 39, che è poi il mio numero, però mi andava proprio giusto, giusto. Finivo col tallone qua dietro. Allora sono andata a cambiarle e ho preso un numero in più così. Almeno sto all'interno di questa parte con il piede. Queste le ho pagate 10,99 euro. Come vedete ci sono tutti i vari prezzi in varie monete. Quello italiano è quello in euro. Giustamente è questo. Hanno poi la suola in gomma antiscivolo. E ragazzi, allora forse non ancora perché siamo in quel periodo che è una via di mezzo. La mattina è freddissimo. Il pomeriggio si schiatta di caldo nella prova che sono in canotta. E la sera fa di nuovo super freddo. Quindi non si è ancora ben capito se le metterò già in utilizzo oggi. O se magari aspetto ancora un pochino che sia un po' più fresco anche durante il giorno. Questa è... Volevo vedere se aveva un'etichetta dentro. Sì c'è. voglio vedere se si possono lavare non dice niente molto molto male ce n'è un'altra voglio vedere se è uguale o se mi dà l'istruzione sul lavaggio è uguale e l'ho rotta mi farete compagnia mentre recupero l'altro pezzo questa è l'etichetta appunto di produzione non c'è nessuna informazione sul lavaggio però sicuramente le laverò magari a 30 gradi perché è sempre comodo lavarci le ciabotte e che di solito ti lasciano le istruzioni insomma se lavarle a freddo o quello che era vabbè ci arrangeremo poi per rimanere sullo stesso tema ho comprato due calzini super pelusciosini questi sono pelosi sia dentro che fuori ho scelto questo colore azzurrino c'erano anche rosa o grigi simili alle ciabotte mi sembra questo io l'ho pagato sono due coppie li ho pagati 5 ore 49 e anche qui ho scelto i numeri un po' più grandi perché c'era tipo 36 39 o 39 42 una cosa così e chiaramente ho scelto quelli un po' più grandi io in casa ritengo tantissimo questi mi dispiace solo che non siano anti scivolo con sotto i gommini insomma anti scivolo sono solo calzini così per tenere i piedi al caldo ma considerando che la zona in cui ci siamo trasferiti è un pochino fredda nel senso che siamo tra il bosco e la campagna per capirci da una parte abbiamo il bosco dall'altra la campagna e in inverno picchia picchia forte e quindi che mai non te li metti due calzini col pelo secondo me te li metti e poi ho preso due pigiami uno per me e uno per Francesco in cotone leggero però proprio da utilizzare in queste stagioni via di mezzo allora a Francesco l'ho preso enorme ma per sua richiesta mi aveva detto che lo voleva bello grande per poterci stare bello comodo secondo me io ho un po' esagerato però confido nel fatto che essendo cotone quando lo lavo un pochino si stringa ho scelto per lui questa fantasia a righe con i miei colori preferiti che sono il giallo e il verde poi il pigiama è blu e ci sono anche delle righe grigie questo è costato 18,99 euro e ha appunto il sopra che è fatto così a manica lunga e poi ha la parte del pantalone che è molto classica in blu anche questo molto molto lungo questo gli va particolarmente largo perché già la maglia qui ha le spalle molto larghe quindi appena appena ma il pantalone gli va un po' largo però mi ha detto di non cambiarle lui è una taglia più piccola quindi e poi arrivo io che sono sempre l'amatura della coppia i pigiami da donna vi racconto un po' brevemente come è andata i pigiami da donna facevano schifo ci può dire l'abbiamo detto erano uno più triste dell'altro di colori tipo marroncini c'è una roba proprio che mi veniva ecco stavo quasi per andarmene senza comprarmelo poi sono passata nel reparto teenager mi sono avvicinata perché ho visto questa fantasia ora voi non lo vedete da lì ma ha il peletto qui cioè per favore cosa fate? lo vedete e lo lasciate lì? no l'ho visto mi sono avvicinato ho detto oddio fammi vedere e ho visto che le taglie per ragazze vanno in base all'altezza vanno in base ai centimetri come quando comprate le tuttine per i bambini che sotto vi scrivono 80-90 centimetri tipo e qui segnava ve lo faccio vedere 170-176 e io ho detto ascolta una cosa fermati un attimo io ho capito che le ragazze di adesso sono 2 metri a 14 anni però io sono alta 1,73 più o meno quindi esattamente qua dentro l'ho guardata l'ho aperta per cercar di capire se potevo starci e sono arrivata alla conclusione che anche se non ci stavo la volevo lo stesso no io mi auguro di starci ragazzi ecco mi auguro che questo non si stringa a differenza di quello di Francesco perché la parte sopra potrebbe stringermi un po' più che altro sul seno però la manica mi sembra lunga sì e i pantaloni sembrano perfetti cioè guarda che c'è l'elastico ma questi dovrebbero andarmi senza problemi anche perché tendo a portarli a vita abbastanza alta e sulla vita sono più sottili che sui fianchi e sono anche belli lunghi e il mio pantalone appunto alle stelline che si abbinano alla maglietta e quindi non l'ho provato ma convido nel fatto che insomma mi vada anche perché ormai ho cambiato le ciapotte quindi non posso più non ho più lo scontrino per cambiare il resto e questo l'ho pagato anche un pochino pochino meno perché l'ho pagato 16,99 però c'è ragazzi scusate ma non ho capito perché le cose per gli adulti le fanno così tristi cioè già la vita è triste per conto suo datemi un po' di brio almeno in un pigiama basta ho fatto vedere tutto lo scontrino appunto non ce l'ho perché soltanto questo dove mi viene segnato il cambio e quello originale diciamo l'hanno tenuto loro mi hanno dato un buono del 20% di sconto che posso spendere il 18 settembre con una spesa minima di 10 euro solo che poi sotto ti dice esclusi tutto stalker piani anche non so come siano abbigliamento donna bambino licenze esterne libri card regalo li vendono sì un po' di tutto però prevalentemente abbigliamento quindi se non è compreso l'abbigliamento per donna e bambino cosa compro per avere lo sconto nessuno può saperlo bene comunque non si tornerò perché ecco poi anche per quanto riguarda l'abbigliamento hanno delle cose un po' dovresti veramente prenderti il tempo e fare tutto il giro del negozio con estrema estrema gamma perché a volte ti spuntano fuori delle chicche e però hanno roba abbastanza un po' così da mercatone per dire niente di particolarmente bello però secondo me se ti metti lì con calma a spulciare qualcosina lo tiri fuori e soprattutto secondo me hanno tante cose carine per i bambini a prezzi veramente tanto bassi detto questo ragazzi io ho finito ah no volevo farvi vedere anche questi allora questo qui è un dispositivo di sicurezza che è fatto così è un portachiavi quindi voi potete metterci tranquillamente le chiavi di casa o siccome ha fatto un moschettone così potete attaccarvelo alla borsa allo zaino dove volete e ha questo polsantino di SOS che da quello che ho capito schiacciato due volte di seguito fa partire un allarme che supera i 130 decibel in più questa si illumina e fa una luce intermittente tipo per come si dice attirare l'attenzione su di voi ecco si carica con il il cavo quindi non va a batteria e nella scatola ce ne sono due io ho scelto quello rosa e quello nero se no c'era la possibilità di averlo bianco e verdino che forse mi sarebbero piaciuti anche di più perché il verde sapete che è il mio colore preferito però forse questi costavano meno o forse non erano disponibili gli altri non me lo ricordo quindi ne trovate nella confezione due con i relativi cavetti questi sono davvero corti però è sempre meglio di niente comunque il cavetto quello universale anche del cellulare per capirci e la cosa carina è che tenendolo sulle chiavi c'è la possibilità con questo pulsantino qui di accendere anche solo la lucetta premendolo una volta rimane accesa premendolo una seconda volta lampeggia come penso che faccia quando parte l'allarme e magari può essere comodo insomma per trovare la toppa della chiave o qualcosa in borsa che ne so carini questi li ho pagati 17-18 euro mi sembra e li ho comprati su amazon e non per fare la tragica ma penso che chiunque soprattutto le donne mi viene da dire purtroppo nella società imbarazzante in cui viviamo dovrebbero avere un dispositivo del genere vicino se non altro almeno per attirare l'attenzione poi le cose brutte possono succedere sempre speriamo sempre di no ma questo per attirare l'attenzione ragazzi è importante anche ai vostri figli se li dovete mandare a scuola da soli se devono fare un tratto a piedi da soli non costa niente lo mettete in carica alla luce quindi può servire anche per altro e a volte una stupidaggine così può salvare non dico la vita ma probabilmente anche io lo utilizzerò l'ho comprato per usarlo penso che quello nero lo darò al mio ragazzo perché può trovarsi in pericolo chiunque non fa differenza uomo o donna le donne purtroppo siamo più soggette ma se gli fa piacere lo lascio anche a lui e ci tenevo a farvi vedere anche questo perché secondo me non se ne parla mai abbastanza però la sicurezza è importante non mi piace quando sento una donna dire io la sera non esco da sola non porto il cane da sola perché ho paura quando è buio no avere paura non è giusto perché viene limitata la nostra libertà è giusto però fare qualcosa per difendersi se dovesse succedere qualcosa di brutto spero di non averne mai bisogno qualora ne avrò bisogno spero di averlo tra le mani detto questo io ragazzi vi saluto vi auguro tanta tanta serenità e ci vediamo presto 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 buonanotte